Aiai presenta la formazione della FIIA! Buon numero 12 Cristina! Buon numero 7 Adolfo Andrele! Buon numero 10 Grazie! Buon numero 11 Flora! Buon numero 16 Mattiello! Buon numero 20 Ignazio! Buon numero 23 Gravitano MASSIMO! Buon numero 27 Pris! Buon numero 37 Ignazio! Buon numero 76 Mario! E con numero 77 Luca! A disposizione della FIIA! Buon numero 1 Marco! Buon numero 9 Filippo! Buon numero 13 Alessandro! Buon numero 15 Socrates! Buon numero 18 Baranze! Buon numero 70! Buon numero 70! La Santa Sosa! Buon numero 80! Grazie per la visione!